Tappa di chiusura per Lega Ambiente Puglia nel parco Daunia Avventura di Biccari. Oggi è un convegno molto importante perché si parla di energie rinnovabili. Lega Ambiente Puglia ha aperto qui con un convegno e successivamente premierà la procura di Foggia, esattamente il procuratore Ludovico Baccaro, per il suo impegno nella legalità ambientale. Noi abbiamo ascoltato alcuni personaggi che oggi sono intervenuti al convegno, fra cui anche il procuratore Ludovico Baccaro. La procura di Foggia viene premiata qui a Biccari, un premio sulla legalità. Sì, devo dire che mi ha sorpreso, però mi ha reso molto felice perché premia un impegno sul settore dell'ambiente che magari è una di quelle attività meno visibili, che ha meno momenti eclatanti. In particolare è premiata l'indagine, quella Mare Nostrum, però in genere, più in generale, l'impegno della procura sull'ambiente. Noi abbiamo delle risorse importanti, tra queste c'è il turismo e quindi le coste vanno tutelate, tutti gli aspetti ambientali vanno tutelati. C'è un pool che si occupa di questo, di cui fa parte il dottor Gambardella che viene premiato oggi insieme a me e quindi siamo felici di questo riconoscimento e, come dirò anche nell'intervento, continueremo su questa strada perché noi la procura lavora per il benessere di questo territorio e quindi per la tutela di quelle che sono le risorse e l'ambiente, la bellezza naturale dei nostri posti è una grande risorsa che dobbiamo proteggere. Ovviamente, quando parlo di inchieste singole, premetto che tutti gli indagati sono considerati innocenti o meglio non colpevoli fino a condanna definitiva, è bene questo che si sappia e si ribadisca. L'inchiesta aveva ad oggetto sostanzialmente questo, le reste, che sono quelle retine dove vengono coltivate cozze e mitili, una volta che venivano raccolte, venivano gettate in mare insieme alle scorie di cozze rotte, morte eccetera e andavano a depositarsi sul fondo. Ora potete immaginare che queste reste di plastica stanno lì secoli e pian piano depositandosi impediscono anche alla flora del fondo di respirare e di ossigenarsi e quindi è un grave danno ambientale. Noi abbiamo ricostruito questa ipotesi di reato che è quella del disastro ambientale. Avete un occhio sempre attento anche e soprattutto in questo periodo in cui ci sono gli incendi boschivi? Sì, anche quelli vengono monitorati e che il nostro territorio è privo di un adeguato sistema di controllo di videosorveglianza anche per la sua vastità su cui spesso io insisto e quindi ovviamente le indagini non sono semplici perché se non abbiamo le prove, non abbiamo le immagini che ci aiutano diventa complicato. Però qualsiasi fenomeno criminoso, in particolare quelli che riguardano l'ambiente, viene da noi seguito con grande attenzione perché, ripeto, siamo convinti che questa è una risorsa importante per il nostro territorio che la dobbiamo tutelare in tutti i modi. Regambiente oggi preme la procura di Foggia ma chiede più attenzione sugli abusi edilizzi sulle coste. È vero. Io mi sono occupato di abusivismo edilizio quando ero giovanissimo sostituto. Lì ora c'era la doppia procura, c'era la procura presso l'apertura che si occupava specificamente di questo settore. Si è un po' ridotta l'attenzione ma un po' dipende dal fatto che alcune polizie municipali sono sguarnite, noi comuni nel tempo per questioni economiche hanno ridotto. Fatto è che arrivano troppe poche notizie di reato rispetto a quelle che sono gli abusi edilizzi. E noi procediamo ovviamente quando abbiamo notizie di reato. E quindi sicuramente per ora porre l'attenzione su questo tema di una necessità di un maggiore controllo del territorio. Torniamo al discorso che facevo poco prima. Noi dobbiamo controllare il nostro territorio attraverso i sistemi più moderni che sono i droni, che sono le videosorveglianze, in maniera tale da poter intervenire perché sull'abuso edilizia bisogna intervenire il più presto possibile. Fare in modo che l'abuso non venga portato avanti anziché poi dover procedere con le demolizioni che è sempre più complicato. Ricevere un premio in questa cornice bellissima significa comunque avere nell'attenzione anche la partecipazione del cittadino? Sì, io lo dico sempre. Noi dobbiamo riscoprire il nostro senso di comunità, di collettività. Io cerco di passare il messaggio che la Procura non è che sta lì col fucile puntato, lavora per tutelare i diritti e per tutelare la comunità. Allora ricevere un premio significa un'occasione di incontro con i cittadini per dire che la Procura c'è, che lavora per tutelare le risorse del territorio e quindi è un momento di incontro. Io la vivo proprio come nel senso che lei ha esposto nella sua domanda. Sono venuto personalmente a ritirare il premio non solo per il garbo verso chi me lo concede, ma perché è un'occasione di incontro con i cittadini e spiegare il nostro lavoro. Presidente, Lega Ambiente Puglia ha scelto Biccari come ultima tappa, forse anche la tappa più importante fra i parchi, e ha scelto il Parco d'Aunia Avventura. È un orgoglio, non solo per il Parco d'Aunia Avventura, ma per questo territorio? Sì, abbiamo praticamente sfatato un tabù, innanzitutto perché quest'anno l'Eco Festival si svolge nelle aree protette e nelle aree parco, però il fatto che comunque Lega Ambiente Puglia abbia scelto come le question Biccari e il Parco Avventura, chiaramente questo ci riempie di soddisfazione e di orgoglio, perché ci sono due linee di pensiero che finalmente si incontrano, e si incontrano in una giornata anche di festa, perché è di quello che poi si tratta, in cui si parlerà anche di energie rinnovabili e di comunità energetiche, ma la cosa importante è che il mondo forestale incontra quello ambientale, e quindi abbiamo superato anche quelle esigenze che avevamo nei confronti reciprochi che avevamo. Sarà una stagione lunga per il Parco d'Aunia Avventura? Eh, siamo partiti già lunghi, insomma. Sì, sarà una stagione lunga, ma sono piena di soddisfazione, di grande lavoro, di stimoli, e soprattutto dovremmo avere la capacità di narrare e di raccontare questa nostra esperienza, perché la questione che riguarda queste aree, la capacità, la voglia di riscatto che hanno queste aree, è chiaramente per noi fondamentale ed importante. Presidente, ultima tappa, ma è una tappa particolarmente importante, perché siamo a Biccari, nel Parco d'Aunia Avventura. Cosa accade e quali sono i prossimi progetti? Sì, è una tappa che abbiamo voluto proprio appositamente chiudere qui a Biccari, perché il tema di quest'anno è appunto di Festamente Puglia, i parchi regionali, e qui noi abbiamo chiesto alla Regione, con i sindaci, le istituzioni di un nuovo parco regionale dei Monti Dauni, quindi era il finale perfetto. Anche perché questo è un territorio, oggi parliamo anche di energie rinnovabili e comunità energetiche, è un territorio dove c'è la maggiore presenza di rinnovabili per la Puglia, ma anche per la produzione italiana, per cui era giusto fare un focus su questo territorio, ma anche valorizzare queste aree interne dei Monti Dauni, che hanno una grandissima ricchezza. I comuni stanno cercando veramente di far tanto per valorizzare, ed è giusto che si accendano anche i fari di una festa come quella di Lega Ambiente, per dare maggiore attenzione e valorizzazione. E appunto da qui si parte per tutto un'azione, per quanto riguarda sia le rinnovabili, che è un tema importantissimo per la nostra Regione, abbiamo visto i tanti progetti che si sono proposti, ma è importante affiancare le amministrazioni per supportarle nel dialogare, nel confrontarsi con le aziende per ottenere i maggiori risultati possibili, ma anche valorizzare le aree interne attraverso anche le vie della transumanza, le vie, i cammini, le ciclovie, proprio per dare ricchezza a questo territorio che merita tanto, ed è giusto che anche la Regione e le istituzioni diano un po' più di riguardo a queste aree. Un'ultima battuta, un premio importante alla Procura di Foggia. Sì, diamo anche il premio Ambiente Legalità, che è il premio che abbiamo istituito con tutta Festa Ambiente Puglia, abbiamo già dato gli altri premi durante le tappe, chiudiamo con la Procura di Foggia per l'importante operazione fatta nel 2021 per Gargano Nostrum, quindi tutta l'inchiesta sulla miticultura per quanto riguarda Cagnano Varano, è un tema importante perché sta a dimostrare come l'attenzione sul nostro mare è sempre più importante, l'abbiamo raccontato col dossier Mare Nostrum, ed è giusto valorizzare anche chi si impegna quotidianamente sul territorio per tutelarlo, soprattutto dare una speranza di legalità ai nostri cittadini e ai nostri territori. Sindaco, Legambiente Puglia si interessa di bicari, di questo bosco, del Parco d'Ami e Avventura, cos'altro deve aggiungere il bicari nel suo palmarès di situazioni importanti ormai a livello nazionale? Siamo contenti che Legambiente ci abbia scelto per questo appuntamento così importante, è sicuramente un segno del lavoro che è stato fatto in questi anni qui al Parco d'Ami e Avventura, con la sinergia del Comune, di Daoni e Avventura e anche di altri soggetti del nostro territorio. Siamo contenti di questo appuntamento anche perché si parlerà di temi molto importanti, dell'istituzione del Parco dei Monti Daoni, noi vogliamo che il nostro territorio sia dotato di ulteriori strumenti di tutela e di valorizzazione e anche di energie rinnovabili che rappresentano l'attualità strettissima del nostro tempo, una sfida importante per il nostro territorio. La presenza di tanti amministratori locali testimonia la delicatezza dell'argomento ma anche la voglia di essere protagonisti su questo tema. Che estate sarà per Bicari? È una estate ricca di eventi e molto lunga perché iniziamo stasera di fatto con il nostro programma estivo, ma arriveremo fino ad ottobre con appuntamenti in paese e in bosco, di varia natura, per tutti i gusti, quindi è stata molto impegnativa che dopo il periodo di limitazione del Covid volevamo offrire a turisti, visitatori e anche ai nostri concittadini. L'ennesima sfida sulle rinnovabili che parte dai Monti Daoni, da Bicari oggi. La gestione delle risorse dei Monti Daoni è uno dei temi più importanti all'interno della strategia delle aree interne perché chiaramente bisogna capire che il nostro è un territorio che ha numerosissime risorse naturali che dovremmo provare a sfruttare a beneficio dei cittadini. È chiaro che l'energia è un tema attuale ma noi già da tempo stiamo discutendo su questo tema e abbiamo stabilito, abbiamo sancito tra i sindaci un accordo non scritto che tutto ciò che deriva dalle risorse naturali, acqua, vento, boschi, i primi fruitori dovranno essere i cittadini. Tant'è che abbiamo avviato un ragionamento mettendo in atto, partecipando tutti insieme alla Green Community, al bando che è venuto fuori da parte del Ministero e anche quello della Regione Puglia e non è escluso che alcuni comuni, se non tutti, creeranno proprio una società di partenariato pubblico per far sì che gli insediamenti siano soprattutto pubblici. E da Biccadì parte anche l'idea proposta di un parco dei Monti Dauni, un'idea proposta lanciata oggi da Lega Ambiente. È un'idea che avevamo già in mente da tempo, ci stiamo già lavorando con alcune sottomisure che c'erano già state finanziate e sicuramente è un progetto ambizioso che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Direttore, qual è la situazione a livello ambientale in Italia? Come stiamo messi? In Italia si sta aumentando moltissimo la sensibilità, però se devo essere sincero a livello ambientale le sfide importanti che dovremmo già aver messo in campo ce le stiamo facendo sfuggire. Sull'energia continuiamo a combattere e a faticare per cercare nuove forniture di fonti fossili e invece fare fonti rinnovabili. Sul tema della tutela dell'ambiente montano, delle aree interne, i ghiacciai stessi alpini ci dimostrano come ancora oggi ci sia moltissimo da fare. E poi abbiamo ancora diverse città in emergenza rifiuti per cui forse su questi temi dovremmo essere più bravi e maggiormente incisivi. Ricordandoci che fra l'altro le soluzioni sono sotto gli occhi di tutti per cui non è più un'utopia ma è una cosa che dobbiamo mettere in campo. Queste quattro tappe di Lega Ambiente Puglia danno una spinta in più relativamente alla partecipazione dei cittadini? Sì, abbiamo visto, sono state delle tappe molto importanti per la partecipazione dei cittadini perché hanno costretto le persone a uscire dalle città, a uscire dalle loro abitazioni e andare a visitare le aree naturali della Puglia perché l'idea di fare Festa Ambiente Puglia come un viaggio dal Salento alla provincia di Foggia ai Monti Dauni attraverso le aree naturali ha voluto dire dimostrare e farle frequentare a tutti quanti anche a quelli che non hanno conosciuto. Per cui in questo modo molti hanno potuto capire che la natura è ancora viva, presente e va tutelata. Una sua riflessione su questa centralità boschiva di Biccari? Ma questo bosco, lo diceva prima anche il sindaco è un patrimonio inestimabile è un patrimonio inestimabile perché fornisce ossigeno a tutta questa parte della Puglia è un patrimonio inestimabile perché fornisce anche legname con una gestione sostenibile quindi anche una materia prima rinnovabile ed è una risorsa inestimabile perché è diventata anche un luogo di turismo e di fruizione per le persone per cui questo dimostra come oggi la natura oltre ad avere un valore ambientale c'è anche un valore economico molto importante. In una location così fantastica una voce bellissima. Ci proviamo, la location è fantastica la voce, vediamo questo freddo. Lì abbiamo sentito il soundcheck e la voce c'è sicuramente che cosa ci propone stasera? Propongo un po' di brani nuovi dell'album nuovo che si chiama I su Acusi che è uscito a marzo che ha molto Sud ha molta Puglia ma anche molta Napoli c'è un omaggio a Pino Daniele Con una voce jazz però? Sì, jazz per fare prima perché quando ti presenti che fai, che suoni qual è il tuo genere canto jazz ma in realtà mi piace tutto mi piace la musica mi piace il folk mi piace il new soul mi piace la musica venezuelana latina però per fare prima si dice cantante jazz perché il jazz è come dice Checcozzalone quando non sai cos'è è jazz Qual è il progetto di Serena Brancala in quest'estate? Stiamo girando con una band meravigliosa che è alle mie spalle e facciamo abbiamo un sacco di concerti molto belli in rassegne jazz sono super contenta perché ripeto quello che a me piace e non fa parte proprio del jazz però mi piace pensare di poter essere etichettata in questa meraviglia di aggettivo che è questo genere musicale quindi abbiamo una ventina di concerti oggi siamo qui a Biccari in questo bosco meraviglioso per la festa ambiente chiudo tra l'altro questo calendario di eventi e domani siamo a Gaeta poi proseguiamo con Roma Piacenza Sisi eccetera in bocca al lupo grazie mille viva il lupo grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille